Prepariamo insieme questa crostatina a base di castagne buonissima che ho fatto per i miei colleghi che hanno apprezzato tanto, guardate che spettacolo! Mescoliamo le due farine castagne e per dolci, aggiungiamo lo zucchero di canna, un pizzico di sale, naturalmente le uova, il burro fuso, iniziamo ad amalgamare bene il tutto cercando di formare un panetto omogeneo che potete far riposare in frigorifero oppure utilizzare subito. Nel frattempo però ho creato anche la cremina e l'ho fatta a base di ricotta, di pecora, poi ci ho messo un pochino di zucchero di canna, naturalmente la crema di marroni ragazzi, questo è uno spettacolo! Mescoliamo bene bene e mettiamo da parte. Nel frattempo andiamo a stendere la nostra frolla con il mattarello e andiamo naturalmente a rivestire una tortiera, io ho usato quella con il fondo removibile. Buccarelliamo un pochino, aggiungiamo la nostra farcia, decoriamo con le striscioline e lasciamo cuocere in forno. La ricetta naturalmente la trovate sul blog e video completo su YouTube. A questo punto possiamo cuocere, una volta cotta la tiriamo fuori e lasciamo raffreddare, un po' di zucchero a velo, guardate la meraviglia, devo dire che è veramente veramente buona! Ciao!